Questa splendida finale Matteo 12 secondi punto 7 per decidere la stagione di Eurolega E' tutta qui l'esito di questa annata Tanti mesi di lavoro, tutti tradotti in questo possesso Cos'è per la rimessa? Esce Yul Ma chi si ca a difendere? Ecco Yul che riceve Su di lui c'è la difesa di Papa Nicolaus E' vicino a Tavares per portare il blocco Yul rimane con Fall, lo attacca, si prende Il tiro del sorpasso! Sergio Yul 3 secondi punto 1 da giocare 79 a 78 Non Sergio Rodriguez ma un altro super veterano Sigla il sorpasso del Real Madrid Ma allora c'è anche da fare un monumento a coach Cius Matteo Perché ho detto vabbè dopo tutto quello che ha fatto Se la gioca Rodriguez e invece se la gioca Lul Guardate che canestro ma soprattutto anche la difesa di Fall Cosa poteva fare di più? 2 metri e 37 Quel braccio lì alzato Cioè Incredibile Veramente Matteo Io penso Senza Senza paura di essere smentito Una delle più belle belle finali Di Eurolega in assoluto Che è un bel cuore già il mondo che è un importante Che è un'altra